Non risponde, non perché non vuole rispondere ma vuole attendere, è un suo sacrosanto diritto a aspettare e quindi le dichiarazioni verranno rilasciate in un momento successivo. Rassa ancora in silenzio Fred Di Pacini, l'imprenditore di Monte San Savino questo pomeriggio di fronte alla PM Andrea Claudiani nel corso dell'interrogatorio si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere. Il gommista che nella notte del 28 novembre scorso ha sparato contro il 29enne di origini moldave uccidendolo resterà in silenzio sino a quando non sarà depositato l'esito dell'autopsia svolta oggi sul corpo del giovane che ha stabilito l'esatta causa della morte, un'emorragia interna. Dei cinque colpi esplosi uno lo ha infatti raggiunto all'addome mentre l'altro alla gamba ledendo l'arteria femorale, in quest'ultimo caso non c'è foro di uscita. Abbiamo deciso di attendere questi 60 giorni, vedere le risultanze in maniera più certa e accurate di quello che sarà l'autopsia e il risultante dell'esame autoptico. Detto questo c'è bisogno anche di un nuovo sopralluogo da fare sul posto, posto che ci sono anche delle dinamiche sulla traiettoria. L'abbiamo richiesto noi perché ci sono delle criticità sulla direzione di questo progetto. Freddi è indagato per eccesso di legittima difesa, da tempo dormiva all'interno del suo capannone a Monte San Savino per difendersi dai numerosi furti. Come sta vivendo questi giorni? In maniera traumatica perché fino all'entrata qui dentro era molto forte, poi quando ha cominciato ovviamente il Pubblico Ministero a fare un attimino capire la situazione, quali sono le carte, ha rivissuto un momento tragico. Perché dobbiamo tutti ricordarci che la morte di una persona è la prima cosa che è avvenuta. Nelle ultime ore infine un altro colpo di scena. Il giovane Moldavo morto sarebbe infatti un ladro professionista con numerosi precedenti per furto. Sarebbe un latitante colpito da un ordine di carcerazione della procura di Milano. Il suo nome inoltre non sarebbe Tonjok, bensì Mircea Vitalie.